Ti ho sempre detto che la mia famiglia era rimasta fuori dalla guerra, ma non è vero. Cosa stai dicendo? Mentre stavamo dormendo delle SS tedesche sono riuscite a trovarci. Alle donne hanno fatto delle cose orribili. Quante probabilità ci sono che uno che ti ha aggredito 15 anni fa dall'altra parte del mondo venga a stare a due isolati da casa nostra? Perché mi fa questo? Non ti ricordi di me? Ti chiami Carl? Mi confondete con qualcun altro? Non sono io. Ricordo il tuo fischio. Ci hai svegliato, mi hai colpito. Non sono mai stato in guerra. Sei convinta che sia proprio lui? Sì, gli occhi. Quegli occhi non li dimenticherò mai. Non sono tedesco, sono svezzero. Ho documenti che lo dimostrano. Dobbiamo essere sicuri. Io sono sicura. Devo essere sicuro anch'io. Tu non mi vuoi credere. Che cosa vuoi? Voglio che lui confesse. Noi lo portiamo alla polizia. Smettila. Non sono la persona che ha perso. Basta, bugie! Dobbiamo porre fine a tutto questo. Mi sono resa conto di non sapere tante cose di Thomas. No! Non. No!